Il Bari è pronto a rialzare la testa dopo il K.O. Al Barbera contro il Palermo. La sconfitta contro il Rosanero però brucia ancora, come evidenziato dalle parole del centrocampista De Galletti, Mattia Maita. La partita di Palermo ci dice tanto, abbiamo fatto una buona partita e dovevamo raccogliere qualcosina in più di sicuro. Poi, ripeto, gli episodi fanno una differenza. Abbiamo preso un gol un po' rocambolesco, però questo è calcio. Quindi prendiamo quello che di buono abbiamo fatto per più di 80 minuti e ripartiamo da quello. Parola d'ordine, umiltà. E questo permaita lo spirito con il quale la squadra deve affrontare i prossimi impegni in campionato a partire dalla sfida contro il Perugia sabato pomeriggio al San Nicola. Credo personalmente che la nostra forza, quella che è stata fino ad oggi, è quella che guardarsi indietro per paura, per rispetto degli avversari, è quello che ci ha portato a dove siamo qui adesso. Perché ogni volta che noi abbiamo alzato dentro di noi, perché il pensiero di essere più forti degli altri o di dover correre meno degli altri, abbiamo preso gli schiaffi. Quindi credo che mantenere questo profilo ci dà quella forza, quella voglia di correre più degli altri, che abbiamo visto contro il Parma, che abbiamo visto anche col Palermo. Perché questa è una B veramente, veramente forte. Pensate che adesso giochiamo contro il Perugia, che si trova in quella situazione di classifica. Io ho visto tante volte giocare al Perugia, i giocatori che ha. È una squadra forte. Cioè questo ti fa pensare che veramente è un campionato difficile e tosto. Quindi io vado dietro i miei compagni e dico che anch'io firmerei per il quarto posto. Poi vediamo cosa succede.